quello grosso e poi diventa rosso uno schiacci quello diventa rosso ok ok questo qua fai il tamaco? si, tutti i due ci prendi interi questo è? si e poi diventa rosso in mezzo si metta con la signora vieni tra qua giù pronti pronti vai, vai che diventa rosso? ora non sbagliato, scolato scolato più grosso pronti come lo diciamo? questo lo uno dei due uno dei due ora eccolo lì perfetto devo trovare ciao 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 grazie nasi ciao 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 ciao